Il fan club che finalmente in Italia ha dimostrato che i Metallica sono ancora forti e vivi. Il fan club è zonametallica.com, oddio il sito è zonametallica.com, il fan club è zonametallica. E abbiamo la fortuna stasera di avere qui il presidente e alcuni altri membri del fan club. Io voglio sinceramente evitare un secondo qui sul palco il presidente. Sì ragazzi, è una persona che quando leggerete la nuova che scrive sul sito vi innamorerete. Veramente, andate a visitare il sito www.zonametallica.com. Mario Schigliatto! Grazie. Io volevo farvi solo 30 secondi. Volevo ringraziare Monica, dell'ospitalità, del gusto. I fedelissimi sono rimasti qui, malgrado la tarda ora. E volevo ricordarvi con un lungo applauso che 22 anni fa moriva un grande. Qui in parla. Adesso ti lascio subito perché non voglio ancora riparare. Di sé! filmare, si sp Luis breadthi as a scottos spart pietanze. Ci chiedi as a scottos spart pietanze. filmare, spart pietanze. se signale non voglio ancora rip풀are. Gliranco si spart pietanze. filmare, sisi piecesız misto spart pietanze o pietanze. filmare, sisi pennare, sisi把它 ripratura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.